canva ha recentemente introdotto in via sperimentale una nuova funzionalità che permette di generare automaticamente video e immagini partendo da un testo o una descrizione una funzionalità sicuramente molto interessante anche dal punto di vista dell'accessibilità perché darà la possibilità anche a quei bambini o ragazzi meno bravi a disegnare di poter esprimere le proprie idee con delle immagini proveremo adesso a generare una gif di halloween per farlo andiamo a cliccare in alto a destra su dimensione personalizzata e inseriremo come dimensione 1080 per 1080 quindi una proporzione quadrata che è quella standard per immagini e fotografie una volta effettuato l'accesso alla pagina di lavoro ci spostiamo a sinistra sul pannello degli strumenti e scorriamo verso il basso andiamo quindi a cliccare su altro clicchiamo quindi sulla funzionalità text to image a questo punto non ci resta che inserire la nostra descrizione streghe di halloween vado quindi a scegliere uno stile per la mia immagine può essere foto disegno 3d pittura motivo arte concettuale in questo caso sceglieremo pittura e quindi clicco in basso su genera immagine canva impiegherà qualche secondo per generare le immagini queste sono le immagini che mi propone canva se non ci piacciono possiamo cliccare su ricomincia e generarne delle nuove adesso noi scegliamo una di queste immagini e andiamo ad adattarla al formato che abbiamo preparato l'immagine si adatta perfettamente perché è quadrata esattamente come il formato che abbiamo scelto una volta inserita l'immagine inseriremo anche del testo ci spostiamo quindi di nuovo sul pannello degli strumenti andiamo a cliccare su testo e digitiamo in alto su cerca testo halloween canva ci fornirà una serie di stili adatti proprio a questa celebrazione molti sono a pagamento ma ce ne sono alcuni gratuiti come per esempio jeepers quindi ci clicco e vado adesso a modificare il mio testo utilizzando la funzione di trascinamento e utilizzando anche l'editor di testo modifico quindi il mio testo che sarà in questo caso ip halloween lo adatto posso anche inserire dei filtri utilizzando l'editor di testo qua in alto quindi clicco su effetti e inserisco anche un'animazione clicco qua in alto su animazione inserirò come animazione esplosione bene la nostra immagine è pronta per essere scaricata vado quindi a cliccare in alto su condividi clicco su scarica vado ad aprire il menu a tendina e la scaricheremo come gif andiamo quindi ad aprire l'immagine che abbiamo scaricato questa è la nostra gif grazie